Bene allora cari amici, rieccoci qui, cominciamo subito questo TG Moneta dopo la sigla, vi do tutta una serie di aggiornamenti relativi alle vostre iscrizioni, ci sono alcune cose molto importanti da chiarire e alcuni aggiornamenti, quindi mi raccomando restate qui perché il TG Moneta è quello che vi dà le informazioni per provare a vincere questa battaglia, quindi vi raccomando, mi raccomando restate qui, non andate via perché partiamo immediatamente. Eccoci qua carissimi amici, allora vorrei darvi alcune informazioni che possono essere molto utili per voi che ovviamente siete appassionati di questo tema della moneta, e ovviamente è inutile a dirlo, io spero che tutti voi vi appassionate di questo tema perché non so quanti di voi sono d'accordo con me ma l'unico modo per uscire veramente dalla Matrix è quello di appassionarsi a questo argomento della moneta complementare. E' veramente l'unica speranza che abbiamo carissimi amici, non ci sono altri modi, non ci sono altri modi. Ecco, allora cari amici cominciamo subito, cominciamo subito con alcuni aggiornamenti. Punto numero uno, qualcuno mi ha fatto notare che io non ho letto il suo nome quando ho dato l'aggiornamento degli iscritti. Ci possono essere solo due ragioni se questo è successo anche a voi. Ragione numero uno, per un errore che io ho commesso nella selezione dei dati ho visto solo una parte degli iscritti. E ovviamente a questo problema mettiamo riparo immediatamente nell'aggiornamento di oggi, in questo TG Moneta. Oggi vi leggerò di nuovo tutti gli iscritti in modo da fare una sanatoria e poi da domani in poi vi leggerò solo gli iscritti della giornata o perlomeno delle ultime 24 ore. Però c'è la seconda ragione che invece dipende da voi. Qualcuno si è registrato mettendo la nota utente non visibile. Ecco, è chiaro che se vi registrate come utente non visibile io vi vedo come amministratore ma non siete visibili da tutti gli altri utenti. Ok? Questo è molto importante. Quindi se per caso avete messo utente non visibile per errore vi invito ad andare ad aggiornare il vostro profilo mettendo invece una categoria, quello che voi cercate, offrite, vendete, eccetera, eccetera. Altrimenti a tutti gli altri utenti sarete invisibili. Altra cosa, Davide mi ha segnalato il fatto, dice Salvo, ma come facciamo a capire quali sono gli utenti iscritti nella piattaforma che arrivano da Salvo 5.0? Bene, nelle prossime ore, nei prossimi giorni verrà aggiornato il database e ci sarà una colonna in più con il loghetto di Salvo 5.0. Quindi in futuro sarà possibile riconoscere se un iscritto appartiene alla grande o piccola comunità di Salvo 5.0. Bene, a questo punto cari amici andiamo a vedere quindi chi sono tutti gli iscritti. Ripeto, per oggi ve li dico di nuovo tutti quanti. E poi invece da domani leggerò solo i nuovi iscritti. Questa lista che ho oggi è organizzata in modo corretto e quindi li vedo tutti quelli che sono già iscritti. Bene, allora c'è l'azienda agricola Il Regno della Lumaca dalla provincia di Messina. Poi c'è Danny Battistello, ingegnere dalla provincia di Padova. Poi c'è Beta Shop di Armando Benfenati dalla provincia di Modena. Poi c'è Giuseppa Campo dalla provincia di Roma. Poi abbiamo Angela Cerquez dalla provincia di Lecco. Poi abbiamo Artenio Ceresa dalla provincia di Piacenza. Andiamo avanti, andiamo avanti. Poi abbiamo Nicola Di Pietro dalla provincia di Napoli. Poi abbiamo Digital Specialist dalla provincia di Milano. Poi abbiamo Francesco Ficara dalla provincia di Reggio Calabria. Rossella Fidanza dalla provincia di Varese. Michele Fiori dalla provincia di Viterbo. Grazia Gatti dalla provincia di Parma. Angelini Davide, scusate, Davide Angelini dalla provincia di Rimini. Poi abbiamo Andrea Giacomella dalla provincia di Trento. Poi abbiamo Salvatore Italiano dalla provincia di Palermo. Poi abbiamo Antonio Lamboglia dalla provincia di Napoli. Sergio Lapi dalla provincia di Pavia. Salvatore Mandarà dalla provincia di Milano. Massimo Menchini dalla provincia di Massa Carrara. Marco Miccini dalla provincia di Milano. Costantino Modera dalla provincia di Novara. Andrea Panella dalla provincia di Roma. Penne stampate Gadget Promotions dalla provincia di Enna. Alessandro Pinton dalla provincia di Vicenza. Valerio Pulidori dalla provincia di Firenze. Federico Silenzi dalla provincia di Roma. Paolo Tintori dalla provincia di Lucca. Alessandro Vescovo dalla provincia di Roma. Cari amici, siete in tanti, siamo in tanti. Vi rendete conto quanti siamo? Adesso vi dico con esattezza quanti siamo. In questo momento, tra tutti quelli che ho letto, più altri che sono ancora in attesa di approvazione, siamo, cari amici, in 44. Potremmo cantare 44 gatti. Considerate che è passata solo una settimana. Per me questo risultato è molto buono, molto incoraggiante, ma ovviamente non è sufficiente se dobbiamo veramente riuscire a staccarci dalla matrix. Quindi mi raccomando, spargiamo la voce, spargiamo la voce, spargiamo la voce. Bene, allora, a questo punto vi dico solamente quelli che non sono ancora quelli che non sono ancora approvati e che quindi non ho letto prima. Allora, abbiamo Manuela Carla Fabri dalla provincia di Novara, poi Luca Gioiosano dalla provincia di Milano, Dario Morandi dalla provincia di Pavia, Giovanni Reale dalla provincia di Verona, scusate, Fabrizio Viaroli dalla provincia di Piacenza. Bene, noto che ci sono alcune province che ricorrono più volte, Piacenza è presente almeno due o tre volte, Trento è presente due o tre volte, Roma un bel numero di volte, Milano, Idem, Napoli, tantissimo. Quindi già si stanno creando dei gruppi. A questo punto, cari amici, cercatevi fra di voi, mettetevi in contatto, organizzatevi, riunitevi, fate delle riunioni, coinvolgete i vostri vicini, andate a cercare delle aziende. Mi raccomando, ognuno di noi deve diventare una sorta di promotore affinché la rete cresca. Perché l'unica speranza di avere successo, di staccarci dalla matrix, è quella di aumentare, di essere in tanti. Dobbiamo essere diverse centinaia se vogliamo veramente avere una massa critica importante e quindi avere tante cose da scambiarci. Bene, a questo punto vorrei vedere se riesco se riesco ad andare a vedere a proposito, a proposito, importante, molto importante, guardate che abbiamo pubblicato sul portale se voi andate nella pagina La Nostra Moneta c'è il link a un nuovo tutorial. Ok? Oltre al tutorial su come iscriversi c'è anche il tutorial su come utilizzare la piattaforma. Bene, andate a guardarvi questo tutorial, è veramente molto molto interessante e vi fa vedere per esempio come si vedono gli annunci. Per esempio, ricerca annunci. Ecco qua. Allora, vediamo un po', vediamo un po' se riesco a cercare degli annunci. Azione, categoria, ma io non voglio scegliere, ecco, azione, vendo, vediamo per esempio, ricerca. Ah, ma allora invece di mettere vendo io metto, non metto nessun filtro, così vediamo. Oh, guardate che bellezza ragazzi, adesso vi faccio vedere. Vi faccio vedere quanti annunci ci sono. Allora, abbiamo un annuncio che arriva da Modena, cerco forniture, scatole, cartone da imballaggio per spedizioni e c'è anche la fotografia, vediamo, ecco qua, le scatole che sta cercando. Poi, invece, da Lucca, bicicletta da donna come nuova e questa è la categoria è vendo. Poi, Tamper Versa Pro Massager, Versa Pro, che cos'è? Vediamo la fotografia. Oh, guardate che carino, quindi c'è qualcuno, c'è qualcuno che vende, c'è qualcuno che vende questo, questo, questo robo. Com'è che si paga? Come si paga? Ah, è Anna Bullano, io la conosco, una mia amica. Prezzo, 100, 100, bisogna capire, bisogna capire la quota di buoni. Ecco, magari qualcuno di voi già potrebbe comprarsi questo massaggiatore in buoni. Ecco, poi c'è una fotocamera, una fotocamera Nikon compatta, ecco, vedete? Ecco, questa qui, se la volete comprare, anche questa è Anna Bullano che la mette in vendita, con a 15 buoni. Poi, vediamo un po', c'è qualcuno che dona un ricevitore satellitare, poi, c'è un'altra macchina fotografica, questa volta della Pentax, in vendita. Poi, Artemio Ceresa, vende quadro oli su tela mio produzione. Eccolo qui, ecco qua, questo è un quadro, la vendita è 400, credo che siano 400 euro, però, potete andare a vedere nella, nel profilo, nella pagina di Artemio Ceresa, potete andare a vedere qual è la percentuale di buoni che lui accetta. Andiamo avanti, andiamo avanti. Modena, cerco etichettatrice Daimo Label. Insomma, insomma, come vedete, cari amici, ci sono già diversi, diverse, diversi annunci. Stampo oggetti in 3D con stampante e materiali ABS o PLA. C'è qualcuno che vende scaffali a Prato, poi c'è qualcuno che cerca un trapano avvitatore per lavoro fine. Insomma, come vedete, ci sono già diversi annunci, carissimi amici. Ecco, quindi mi raccomando, mettete i vostri annunci. A proposito, mi sono ricordato che io devo ancora finalizzare il pagamento dell'operazione, del tagliando che ho fatto per la mia macchina, 200 euro da Cipriano Car Service. Ho già pagato 160 euro in contanti, devo pagare 40 buoni il 20% di 200 euro, 40 buoni per completare il mio pagamento. Bene, cari amici, quindi come vedete la rete comincia a prendere vita, ma dipende da tutti voi e da tutti noi, compreso il sottoscritto, continuare a ravvivarla. Quindi vorrei ringraziare in particolare Anna Bullano per aver messo il suo annuncio, vorrei ringraziare Armando Benfenati per aver messo il suo annuncio, vorrei ringraziare Artemio Ceresa per aver messo il suo annuncio, ancora Armando, Antonio Lamboglia, anche lui ha ammesso che lui vende una pagnotta di farina integrale, guardate che bella, aspettate che no, così non si vede, eccola qui, ecco la pagnotta che vuole vendere, che desidera vendere, chi era che desiderava venderla? Antonio mi sembra, vero? Antonio, sì, Antonio Lamboglia vuole vendere questa pagnotta, quindi cari amici, vedete, ci sono veramente tanti tanti annunci, quindi mi raccomando, ecco, oh, anche il mio amico Massimo, cos'è che vende? Ah, ecco, Massimo Menchini fa delle stampe in 3D, oh, guardate, Massimo ha messo pure una foto, guardate, eccola qui, Massimo fa delle stampe in 3D in vari materiali, ecco qua, questa è la foto, bene, quindi grazie anche a Massimo per il suo annuncio, benissimo, come vedete cari amici, ci si comincia a muovere, ci si comincia a muovere, quindi veramente grazie, grazie, grazie a tutti voi. Allora, ho letto mi pare anche coloro che si sono iscritti, che sono ancora in attesa di conferma, sì, li ho letti, quindi diciamo che per questa puntata di TG Moneta possiamo fermarci qui, mi raccomando, spargiamo la voce, spargiamo la voce, spargiamo la voce, è l'unico modo che abbiamo di liberarci dalla schiavitù mafiosa delle banche, schiavitù mafiosa delle banche, sottolineato tre volte, mafiosa, i banchieri sono dei mafiosi e i bancari, quelli che lavorano in banca, diciamo che sono complici di questi mafiosi, ecco, io auspico, auguro, invito a tutti quelli che lavorano in banca di dimettersi e di fare qualche altra cosa, perché è chiaro che, sebbene la loro complicità sia naturalmente molto meno grave rispetto a quella dei banchieri, però, sapete dire, eh, ma io tengo famiglia, cioè fare un lavoro infame e giustificarlo col fatto che uno tiene famiglia è una giustificazione che diciamo si tiene proprio per miracolo, ecco, io onestamente se fossi, a parte che io, lo sapete, mi sono dimesso dal lavoro che facevo che non era banchiere, io mi occupavo di marketing per una multinazionale e comunque mi sono dimesso per inseguire il mio sogno di fare comunicazione, però veramente auguro a tutti quelli che lavorano in banca che sono complici di un sistema mafioso, sottolineato tre volte, auguro a tutti loro di dimettersi e di essere felici facendo altro, facendo sculture, suonando uno strumento eccetera eccetera, ecco, a proposito di suonare uno strumento quasi quasi vi farei vedere, vi farei vedere qualche secondo dell'intervista che ho fatto, ma sì, andiamo a vedere qualche secondo dell'intervista che ho fatto a Paolo Zanarella, ecco, guardate cari carissimi amici, guardate qui che uomo felice, che uomo felice che ho incontrato, eh, guardate qui cari amici, guardate qui, guardate qui, collegati in diretta con il Duomo di Milano per assistere a questo concerto, intervista con il grande pianista compositore Paolo Zanarella, il pianista fuori posto, eccolo per amici, ok, allora cominciamo subito dopo la sigla, mi raccomando, rimanete qui, ho saltato la sigla, mi raccara, mi racc без удparte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quando hai cominciato a fare questo gioco? Ok, va bene amici, se volete andate a vedere l'intervista integrale, ve lo suggerisco, se voi vedrete questa intervista integrale, il vostro buon umore, la vostra felicità aumenterà e poi mi ringrazierete. Ecco, mi dispiace, io vedo in tempo reale che da quando ho cominciato a mandare questa intervista se ne sono andati alcuni utenti, veramente non riesco a capire, evidentemente alcuni hanno paura di essere felici, questa è l'unica cosa che mi può venire in mente, alcuni hanno veramente paura di essere felici. Quindi mi raccomando, cari amici, andate a guardare l'intervista integrale con Paolo Zanarella. Ecco, vediamo, sto cercando il punto dove io gli faccio la domanda sui soldi. Ti prego di custodire questo tuo modo di essere. Vorrei farti, ho tenuto questa domanda per ultima perché per me è la meno importante, però è la più frequente fra il pubblico, e cioè, ma tu riesci a vivere con queste cose, cioè riesci a guadagnare abbastanza? Lo so, è bruttissimo la domanda, la odio quando me la fanno pure a me. Io lavoravo come dipendente per una multinazionale, guadagnavo 3000 euro al mese di stipendio, macchina aziendale, eccetera, mi sono dimesso per fare questo lavoro, il reporter di strada, o meglio, il reporter per caso. La gente pensa che io sia matto e forse ha ragione. Allora ti chiedo, la domanda che mi fanno tutti i santi giorni, ma tu riesci a vivere facendo così? Se lo faccio da 5 anni vuol dire che ce la faccio. Bene, capito? Bene. Questa è la risposta più bella. Io per esempio nel mio caso, non so, e non mi interessa neanche indagare, nel mio caso sicuramente oggi come guadagno puramente pecuniario guadagno molto molto meno rispetto a prima, ma sono molto molto più felice. E' la cosa più, siamo nati per essere felici e non per essere ricchi. Siamo nati, siamo nati per essere felici, non per essere ricchi. Ecco, questa per me è la parte più bella, più significativa dell'intervista che ho fatto a Paolo Zanarella, o perlomeno per quanto riguarda la parte dialogata. Poi naturalmente la parte più bella è quella dove lui suona, ecco, questo è ovvio. Quindi veramente, cari amici, cerchiamo di capire che l'unico modo di essere felice è quello di fare quello che ci rende felici. Cioè smetterla di lavorare, smetterla di fare gli schiavi e iniziare a vivere scambiandoci le cose, scambiandoci amore. Questo è l'unico modo. Va bene, va bene. Io vedo che comunque gli ascolti su Salvo 5.0 in questo momento sono crollati, perché evidentemente quando si parla di felicità e di amore, le persone non vogliono sentirne parlare. Va bene così. Ok, cari amici, io a questo punto vi saluto, vi rimando al Mi Scappa la Diretta di domani, al TG Moneta di domani. Auguro a tutti voi una buona serata e soprattutto una felice serata. Ciao a tutti, cari amici, e grazie. Dov'è finita la sigla di TG Moneta? Eccola qua. Ciao a tutti, grazie, grazie e grazie.